Si chiama Nice2PCU, il progetto presentato dalla associazione di promozione sociale ShipLab di Gela rivolto a possibili partner. L'obiettivo è quello di incentivare la nascita e lo sviluppo di imprese innovative nel comprensorio locale. Durante l'incontro che si è svolto nei locali di Palazzo Mattina sono state approfondite alcune tematiche riguardanti l'innovazione ed i benefici di sviluppo territoriale, oltre ad una panoramica sui vantaggi fiscali derivanti dall'investimento su imprese innovative e start-up. Da dove è nata l'idea per la vostra associazione di creare un percorso di accompagnamento per le start-up e farete da anello di congiunzione tra i giovani che porteranno delle idee e coloro i quali invece saranno disposti a finanziarle? Questi giovani start-up che esistono, sono tanti nel nostro territorio, hanno solo voglia di emergere e questo lo si può fare grazie anche a chi può essere disponibile ad investire. Ci sono delle agevolazioni fiscali per chi intende avviare delle start-up e sostenerle economicamente? Sì, il governo ha presentato delle riforme di legge che mirano proprio a promuovere la nascita di imprese innovative ma anche l'innovazione delle imprese tradizionali. Questo verrà presentato da un professionista competente e con tutti i vantaggi che sono previsti. Per chi volesse contattarvi, come può trovarvi? Ci può trovare tramite la nostra pagina Facebook ShipLab oppure tramite la mail www.shiplab.it L'evento di sabato ha rappresentato un'occasione imperdibile per gli aspiranti imprenditori al fine di presentare la propria idea di business ad un pubblico di potenziali investitori interessati a sostenere progetti vincenti riguardanti la tecnologia, la smart city, il turismo, il sociale, l'agroalimentare e l'arte. Palazzo Mattina ospita una iniziativa promossa da giovani e rivolta a tutti coloro i quali abbiano intenzione di creare un'inversione di tendenza nell'aspetto economico di questa città. Un'iniziativa importante, portata avanti da giovani, portata avanti come start-up e quindi non potevamo che accogliere con piacere e con grande positività questo evento. Ragazzi meritevoli effettivamente di avere una collaborazione e che quindi riteniamo opportuno che insomma vada gestita nel migliore dei modi.